Leggi l'articolo completo nel link in descrizione. Una sorpresa ti aspetta. Registrare post pay evolution dopo l'attivazione Registrare la post pay evolution dopo aver fatto l'attivazione della carta è necessario per poter usufruire di tutti i servizi online di post italiane riservati ai titolari di questa carta prepagata. Completare la procedura di registrazione non è affatto difficile ed è molto veloce. Vediamo allora di seguito come fare. Come attivare la propria post pay evolution? Per attivare una carta post pay evolution devi recarti in un ufficio post italiane e chiedere di parlare con un addetto ai servizi finanziari. Dovrai fornire all'impiegato che si occuperà di soddisfare la tua richiesta un documento di identità e la tessera sanitaria con il codice fiscale. Ti sarà richiesto quindi di compilare alcuni moduli che sono necessari per l'attivazione della prepagata. Al termine ti sarà consegnata la tua nuova post pay evolution e fin da subito potrai cominciare a utilizzarla per fare i tuoi acquisti. Sono previsti dei costi di attivazione davvero modesti. Dovrai pagare solo la somma di 5 euro e in più dovrai effettuare una ricarica della tua carta al fine di renderla operativa. Ricorda che puoi versare anche una somma minima. Registrarsi sul sito di post italiane. Ora che sei titolare di una carta prepagata post pay evolution non dimenticare di fare la registrazione online. Trattandosi di una carta dotata di codice IBAN ha una serie di funzioni che di solito non si trovano in una semplice prepagata. Dalle funzioni però sono per la maggior parte fruibili solo dal sito web di post italiane. Se vuoi usufruire di tutti i servizi messi a tua disposizione comincia adesso a registrare la tua post pay evolution. Vai prima di tutto sul sito poste.it All'interno della sezione denominata Registrati online. Scegli ora l'opzione che ti riguarda tra privati o professionisti e imprese. Se sei un privato ti saranno all'inizio richiesti due dati anagrafici nome e cognome o recapito telefonico e il codice fiscale. Inserisci i dati e procedi. Ti verranno dunque poste alcune domande in relativa alla sicurezza e alla tutela della privacy. Seleziona le opzioni che preferisci e clicca sul tasto Prosegui. Apparirà infine un riepilogo dei tuoi dati. Controlla che tutto sia corretto e conferma. Riceverai a questo punto un codice di attivazione. Arriverà sul tuo telefono cellulare il cui numero avevi fornito in precedenza. Il sistema ti chiederà infine di scrivere la sequenza alfanumerica ricevuta. Anche per il futuro conserva questo codice. Serve per verificare la tua identità. Ad esempio nel caso di smarrimento della password per accedere alla tua area personale. Adesso sei ufficialmente registrato come utente al sito poste.it. Nel caso tu sia un libero professionista o un'impresa non cambia molto nella sequenza di registrazione se non che ti saranno richiesti i dati identificativi dell'azienda sede legale, partita IVA piuttosto che i tuoi dati personali. Una volta registrato entrando con il tuo nome utente e la password avrai accesso a un vero e proprio servizio di internet banking con il quale potrai controllare il saldo i movimenti in entrata e in uscita e gli estratti conto periodici. Come hai visto è davvero semplice attivare e registrare la tua Postepay Evolution. Iscriviti al canale e visita carteprepagate.org per le migliori carte del momento. Per le migliori carte del momento.